Ciao, sono Fabio Capogno, campione under 19 di badminton e vice campione italiano di badminton. Anche io con la federazione italiana badminton partecipo al progetto Scuola aperta allo sport. Credo che sia molto importante lo sport all'interno delle scuole perché ti fa provare diversi sport e ti permette anche di relazionarti con altre persone. Scuola aperta allo sport, mettiti in gioco, entra anche tu in palestra con i campioni.